Ciao Cripto Amico, come stai? Bentornato in questo nuovo video, io sono Michael ed è un po' che non ci vediamo e ho lavorato tantissimo a un progetto che ti vado a dire in questo video, ovvero il mio server Discord sono felicissimo di poterlo annunciare, ci sto lavorando e ce l'ho in serbo da tantissimo tempo finalmente eccolo qui, come al solito per aiutare a crescere il canale un bel mi piace, iscriviti se ancora non l'hai fatto ho deciso di realizzare questo video sia per annunciare il server Discord nonostante l'avessi già annunciato sui miei social come Instagram o Telegram, però qui su YouTube non ancora e oltre a questo alcune persone già dentro al server non riuscivano ad utilizzarlo, non sapevano come muoversi al meglio quindi facciamo un piccolo tutorial introduttivo per capire come utilizzare al meglio il server Discord ti lascio il link ovviamente in descrizione per entrare bene, questa è la schermata del mio server Discord, sono felicissimo perché sta andando molto bene abbiamo già tantissima gente e ci sono sempre cose in costante evoluzione che vedremo prossimamente iniziamo dalla prima cosa che vediamo quando entriamo nel server, ovvero benvenuto sicuramente tutte queste cose a sinistra non le vedrai all'inizio perché appunto devi accettare le regole prima di sbloccare l'accesso al server puoi entrare tranquillamente, gratuitamente, subito leggi le istruzioni di benvenuto, leggi le regole perché ci sono delle regole e se non le rispetti puoi essere anche bannato quindi evitiamo questo e una volta cliccata la spunta V poi entreremo all'interno del server abbiamo anche qui la sezione annunci, al momento ho messo semplicemente i miei link ufficiali anche perché tutti i giorni ricevo messaggi, decine o centinaia di messaggi purtroppo in cui mi viene scritto Michael, mi hai scritto con un altro profilo Michael c'è un altro personaggio che si finge te e prova a truffare la gente e mi ha chiesto dei soldi quindi state attenti, qui sono i link ufficiali, gli unici miei link e se dovessero essercene mai altri, li aggiungerò qui quindi tutto al sicuro e al meglio evitate di farvi scammare da altre persone che fanno finta di essere me perché sono dei truffatori ok, una volta entrate voi non vedrete sicuramente la sezione amministrativa perché appunto è quella dello staff dove comunichiamo però vedete semplicemente subito la sezione generale abbiamo la sezione bonus in cui ogni giorno condividiamo dei bonus magari non tutti i giorni però spesso cerchiamo di portare dei bonus interessanti per guadagnare soldi extra qui ovviamente stai già vedendo quello di Crypto.com che condivido spesso anche qui su YouTube infatti ti ricordo che in descrizione ci sono 25 dollari gratis registrandosi a Crypto.com e richiedendo la carta rossa o superiore e nel dettaglio vedi spiegato tutti i procedimenti su come fare dentro alla sezione bonus puoi portare a casa centinaia se non più euro al mese e direi che è ottima oltre a questo abbiamo deciso di creare la sezione Crypto News ogni giorno andiamo a condividere notizie dal mondo cripto con anche i vari link per approfondire l'argomento io solitamente facevo dei video su YouTube in cui mostravo alcune notizie e le argomentavo però in questo caso su Discord andiamo a mettere le più importanti con dei titoli molto corti per capire di cosa si tratta cosa sta succedendo almeno nel mondo cripto la sezione newsletter è una delle mie preferite oggi per esempio e per voi che state vedendo questo video magari ieri è uscita la nuova newsletter avevo già una newsletter su Telegram ho deciso di utilizzarla sia su Discord sia su Telegram il Discord vorrei creare proprio come se fosse un mondo tutt'unico perché è bellissimo ci sono tantissimi canali all'interno e almeno non devo fare 10.000 gruppi diversi ho tutto qua e è molto interessante la sezione newsletter ogni settimana cerco di portarne almeno una se riesco a portarne anche di più sono più felice la cosa molto bella è che qui posso implementare varie immagini spiegazioni, grassetti e altre cose è molto interessante anche la newsletter è totalmente gratuita nella sezione Discord poi abbiamo la parte di formazione qui andremo a condividere dei libri interessanti che personalmente ho letto mi piacciono e consiglio quindi per esempio adesso abbiamo condiviso questi e ovviamente metteremo dei link o delle offerte magari Lampo infatti c'è già stata l'offerta Lampo che è durata meno di 24 ore forse meno di 12 ore e non ve la neanche spoiler però c'era uno sconto esclusivo quindi state attenti vi arriva la notifica quando siete dentro Discord perché potrebbero arrivare offerte incredibili per qualche mio servizio prodotto o qualcosa di esterno poi abbiamo due sezioni che sono le community private abbiamo Crypto Billionaire Club e Sala Segnali Crypto Billionaire Club abbiamo qui il modulo che possiamo leggere su come accedere e all'interno poi ci sono le varie regole l'analisi di mercato, le criptovalute che sto comprando o che sto vendendo ad alto potenziale solitamente il mio portafoglio con tutto l'aggiornamento e la chat del Billionaire Club così che tutte le persone all'interno possono anche confrontarsi fare un po' di network e sicuramente aiuta moltissimo condividere alcune gemme o altre cose super interessanti poi abbiamo la Sala Segnali che anche questa è una community privata abbiamo la sezione su come accedere cosa troverai all'interno le regole Crypto Trading sono i segnali cripto Stock Trading sono i segnali del mercato tradizionale quindi Forex, Materie Prime, azioni e molto altro e poi abbiamo la chat per Crypto Trading e la chat per Stock Trading quindi si vanno a condividere le persone iscritte alla Sala Segnali alcuni pareri o altro inerenti ai segnali di Crypto oppure ha già altre analisi che stanno facendo individualmente su un'azione, su una criptovaluta eccetera eccetera al momento è molto piccolino abbiamo pochi canali comunque e mi piace tantissimo non vedo l'ora di implementare con altre cose in futuro il team sta crescendo sempre di più abbiamo tantissime persone che stanno anche lavorando proprio a questo Discord perché io personalmente non riesco a seguirlo tutto ci sono vari canali che richiedono abbastanza tempo ogni giorno se hai voglia di unirti alla Michael Pino Academy su Discord puoi farlo tranquillamente con il link che trovi in descrizione io sono Michael per oggi è tutto ti chiedo un bel mi piace iscriviti se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo alla prossima ciao